A vederle da lontano sembrano multe per divieto di sosta, ed invece è meglio andare a controllare da vicino. Sembra assurdo quando si legge bene. Non si tratta né di verbali né di avvisi da parte delle autorità competenti, ma bensì è un avviso messo nella giornata di sabato da parcheggiatori abusivi in Via Terracina. Per favore, mettere l'auto in verticale, causa partita, grazie. Così recita il testo del biglietto fotocopiato e messo su tutti i veicoli dei residenti di Via Terracina, per trovarsi il campo libero domenica mattina in vista della partita Napoli-Lazio e in vista dell'affluenza di migliaia di auto. Si discute sempre delle carenze strutturali dello stadio San Paolo, della mancanza dei tabelloni, ma anche all'esterno dello stadio regna il caos. I parcheggi non bastano e regna la totale illegalità. Per quel posto che gli abusivi hanno riservato in Via Terracina, i tifosi partenopei arrivano a pagare sino a 5 euro, il tutto sotto gli occhi delle forze di polizia, ma non mancano i bibitari, i borghettari e i venditori di panini e tanti altri abusivi. Altra cosa interessante è che se vi recato allo stadio in moto, il codice della strada viene sospeso. Infatti potete circolare sui motorini anche a 3 o 4 e si raccomanda di andare senza casco, visto che la scusa è che all'interno dello stadio non lo fanno entrare. Istituzioni e forze di polizia svegliatevi, i cittadini per bene di Napoli sono stufi. Il Napoli ha vinto, ma non tutto si deve perdonare. E per concludere basta dire accade solo a Napoli.